Una nuova campagna straordinariamente accattivante, quella che rivolta ai giovani. Perché questo 2024 è diverso? Sta cambiando tanto il mondo del lavoro, è cambiato soprattutto nel post-Covid, ma adesso ha avuto un'accelerazione. Le figure di giovani per un caro demografico sono sempre meno e quindi bisogna assolutamente cercare di attrarle nelle nostre imprese. E come possiamo attrarli? Dando una rappresentazione reale di quella che è la possibilità di avere un approccio positivo al mondo del lavoro nelle nostre imprese. Come dicevo, un approccio positivo che sottintende il fatto che da noi si impara, si impara velocemente, in un ambiente che ormai è diventato assolutamente confortevole perché gli imprenditori vogliono che i propri lavoratori si trovino bene. è confortevole in termini di disponibilità, la flessibilità degli orari, è confortevole proprio nel luogo di lavoro e poi da noi si punta tantissimo oggi sulla formazione, sulla formazione sia quella ovviamente per iniziare un lavoro, ma anche sulla formazione continua. Noi vogliamo che chi viene a lavorare da noi continui a crescere, continui a apprendere. Quindi io penso che sia il luogo giusto per non imparare un lavoro, ma imparare il lavoro.